Non una, non una, non una, libero! Rispondiamo all'appello delle donne palestinesi e ci uniamo alle piazze dello sciopero femminista che in tutto il mondo stanno urlando Stop al genocidio, stop all'occupazione e all'apartheid Palestina libera! Insieme siamo partite, insieme torneremo Non una, non una, non una! Siamo qui perché crediamo che la nostra lotta quotidiana nasca dal desiderio di lavorare per un mondo libero dalla violenza patriarcale, capitalista e colonialista. Bologna estrasfeminista! Grazie!